In questo video ti mostro esattamente 7 prodotti vincenti che devi vendere adesso a dicembre con il tuo negozio di dropshipping. E bentornati i gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video relativo ai prodotti vincenti da vendere in dropshipping durante il mese di dicembre. Quindi andiamo a vederli subito tutti e 7 soprattutto grazie al Montana Winning Products ovvero un servizio che mettiamo a disposizione io e il mio team. Ma prima di tutto andiamo ad eleggere il vincitore del concorso gratuito che mette a disposizione Montana E-Commerce E-Book una volta al giorno e Montana Dropshipping Formula Starter una volta a settimana. Commentando qui sotto Shopify Dropshipping seguendomi su Instagram Stefano Montana Real registrandosi gratuitamente a montanabusinessonline.com Il vincitore della scorsa puntata, del scorso video è stato Fibo, ok? Fibo, scrivi in direct su Instagram e riceverai la tua guida, il tuo Montana E-Commerce E-Book per partire all'asta grande con il dropshipping. Per tutti coloro che volessero partecipare a questo concorso gratuito basta che scrivi sotto questo video Shopify, hashtag Shopify Dropshipping e avrai la possibilità di vincere anche tu gratuitamente in Montana E-Commerce E-Book una volta ogni video e in Montana Dropshipping Formula Starter una volta ogni 7 giorni, ok? Ogni 7 video. Comunque avrai la possibilità di vincere basta che commenti qui sotto Shopify Dropshipping con l'hashtag Shopify Dropshipping. Ma partiamo subito con il primo prodotto vincente da vendere in dropshipping, ovvero queste lucine, ok? Possono sembrare magari non super speciali che risolvono un problema eccezionale, però tuttavia sono stravendibili con un marketing eccezionale. Infatti già per esempio questa immagine, la prima, questa già cattura tantissimo l'attenzione ragazzi perché immaginatevi che le persone con una camera del genere siano super felici, ok? Vedete proprio quanto cattura, solo questa immagine già potrebbe essere usata per il marketing in quanto cattura veramente tanto l'attenzione. Possiamo dire che ci sono diversi colori. L'ideale sarebbe avere tutte le foto così. Comunque vedete 107.000 ordini, solo questo fornitore, quindi stravende questo prodotto soprattutto durante questo periodo. Vedete che ci sono tanti, diversi colori però queste qua sono immagini più belle che proprio fanno vedere come esce la stanza dopo utilizzando queste luci, è spettacolare. Abbiamo, possiamo anche fare l'upsell, 1 metro 7,70 euro, 2 metri 8,22 e 3 metri 8,56 ovviamente voi farete prezzi ancora più, cioè molto più alti ma minimo per 3. Questo è un prodotto minimo per 3 che si può tranquillamente upsellare. Ovviamente dovete cercare un fornitore che spedisce velocemente, soprattutto tramite il dropshipping agent, ok? Quindi questo è un prodotto assolutamente che va testato. Passiamo ora al Montana Winning Products, un prodotto che abbiamo preso dal servizio e mettiamo a disposizione. Trovate il link qui sotto in descrizione di Montana Winning Products per avere maggiore informazioni. In pratica vi diamo un prodotto vincente ogni singolo giorno con tutte le descrizioni, il prezzo da utilizzare, il livello di saturazione, tutte le statistiche all'Espresso, eccetera, eccetera. Adesso andiamo a vedere ovviamente anche il video Facebook, il copy da utilizzare, il target consigliato, la pagina di Instagram consigliata per la sponsorizzazione. Ok, diffuso della Roma, questo è buono perché durante questo periodo ovviamente le persone stando a casa vogliono soprattutto curare l'ambiente che li circonda, quindi la casa. In questo caso abbiamo la descrizione, il prezzo è consigliato 45, le statistiche all'Espresso hanno diversi ordini, ma ovviamente questo dipende dal fornitore. Questa è la statistica, registra circa 20-25 ordini al giorno. Quindi in questo caso vediamo il video, che ovviamente potete utilizzare, scaricare e poi aggiungere le scritte sotto con le caratteristiche vincenti del prodotto. Vedete, video di qualità. Comunque cattura molta attenzione perché è particolare e bello il copy da utilizzare per le ads. Il targeting di Facebook consigliato. Comunque questo è un prodotto, ragazzi, che ovviamente durante il periodo natalizio in particolare è molto molto ricercato, soprattutto per le famiglie, eccetera, eccetera. Come regalo, ok? Passiamo all'altro prodotto. Anche in questo caso la lucina, però in questo caso lucine all'interno. Per questo prodotto in particolare il video è decisamente buono. Vedete com'è professionale, ovviamente io e il mio team li scegliamo personalmente, quindi non si tratta di un bot o cose del genere, ma proprio una persona fisica che crea tutto questo, il copy, il target, la valutazione in generale e il video ovviamente da utilizzare. Passiamo al prossimo prodotto su AliExpress. Vediamo questi calzini che sono decisamente personalizzati per il Natale, ovviamente, durante questo periodo. E la cosa buona è che costano pochissimo, ok? 80 centesimi l'uno. Basta trovare un fornitore, un supplier che spedisca a tempi rapidi e con prezzi ovviamente vantaggiosi e riuscite tranquillamente a venderli. Tuttavia, ovviamente questi prodotti natalizia, ragazzi, non sono problem solving, come suggerisco sempre di fare, però sono delle, diciamo, delle idee che potete utilizzare per questo periodo dell'anno. Poi questo genere di prodotti vanno più in paesi come lo UK, United Kingdom oppure USA, Stati Uniti, in America, che comunque comprano di più questo, questa tipologia di cose. Rispetto all'Italia un po' meno, però un business che va tanto, per esempio, sono i calzini personalizzati e cose del genere. Comunque, queste sono idee natalizie. Passiamo al prossimo prodotto. Questa è ottima perché ovviamente è un periodo freddo, quindi oltre a tenere caldo, il Thermoshaper da uomo per modellare la figura c'è anche da tonna, però questo prodotto in particolare risolve anche un problema, ovvero, oltre al freddo, questo dovrebbe essere, c'era un altro che faceva anche dimagrire, in teoria, perché bruciava grassi. No, era proprio questo, ok. Vedete qui come abbiamo, a Montana Winning Products, trovato proprio il video per la pubblicità, perfetto, fa vedere esattamente la tipologia di uomo che viene targheizzato in questo caso, infatti, vedete, uomo dai 20 ai 40 anni che fa sport, comunque vuole bruciare, comunque anche termica, quindi riscalda durante l'inverno, questo è un periodo ovviamente freddo e quindi focalizziamoci sempre nella descrizione del prodotto, focalizziamoci sempre sulle caratteristiche chiavi del prodotto, i vantaggi che il prodotto può portare al cliente e ovviamente gli svantaggi che il cliente potrà avere se non compra il nostro prodotto, ok. E questo è lo scopo del copy e la descrizione del prodotto, va bene. Come spiego ovviamente nel mio programma avanzato Montana Dropship in Formula, Ora, andiamo a vedere un altro prodotto vincente, ovvero queste rose, che questa, mi pare insieme a un'altra, mi pare che era proprio questa, era Super Winning Products, infatti l'hanno stravenduta soprattutto in America, come regalo, ok? Proprio come gift, voi potete proporla ai vostri clienti, potete targhezzare uomini e donne che vogliono fare un regalo, per esempio per la propria sposa o il proprio fidanzato, comunque un regalo, un regalo di Natale, perché è molto molto bello come confezione, come prodotto, quindi è ottimo per questo periodo dell'anno, va bene? Poi non è molto costoso, anzi certi sono costosi, 10 euro, no? Stiamo su 10 euro, ok? La spedizione ovviamente, questa è l'espresso nel massimo, voi dovete sempre utilizzare Dropshipping Agent oppure piattaforme come Mr. Drop, eccetera, eccetera, che ne abbiamo viste, ne abbiamo viste in diversi video, ok, questo abbiamo visto, non c'è un video, eccolo qui, anche il video non è male, anche questo già si può usare, però volendo potrete li trovate anche in Montana Winding Products, altri video, però questo non è male, è molto semplice, però fa vedere esattamente come è fatto il prodotto, alla fine non è complicato, quindi può tranquillamente essere utilizzato per le nostre inserzioni, ok? Anche per la pagina prodotto. Prossimo prodotto, vincente su Montana Winding Products, pallone da calcio da casa fluttuante, tutte le persone, soprattutto in questo periodo, stanno molto a casa. Andiamo qua all'analisi delle vendite, statistica di Aliexpress, ok, 25-40 ore, ordini, non ci sono top competitors, vediamo il video. Ok, in Italia questo può decisamente andare, anche perché in Italia principalmente è il calcio sport maggiore, ottimo come regalo per i bambini, soprattutto quelli che vogliono giocare a calcio, vediamo che ci sono già le scritte in italiano, quindi questo è anche un ottimo prodotto che si può assolutamente utilizzare, basta cliccare qui, scarica il video e potete utilizzare il vostro video direttamente per le campagne, ok? Copy, molto semplice, target ovviamente uomo o donna perché andremo a targetizzare i genitori, in quanto sono i genitori ovviamente che hanno i soldi per comprare, principalmente il prodotto ai bambini, ok, ottimo prodotto da testare, andiamo infine a vedere questo prodotto, ok, come regalo, anche in questo caso, 18.000 ordini, molto venduto, andiamo a vedere questa un po' l'insersione, andiamo a vedere qui, vabbè, il video niente di che, però, alla fine anche il prodotto è molto semplice, confezione di regalo per le bottiglie di vino, possiamo taglianizzare gli appassionati di vino, che piacciono magari delle marche di vino particolari, vedete che sono veramente tanti, tanti, tante, tante opzioni da provare, assolutamente, quindi vediamo che il prezzo è decisamente basso, comunque si può tranquillamente vendere a un prezzo molto più alto, perché comunque se vuoi andare a terghizzare magari i vini che costano tanto, solitamente questi regali, questo tipo di regalo, si può fare per un prodotto che sta vendendo, ovviamente questa tipologia di prodotto andrà bene per vini comunque prestigiosi, va bene, comunque per soprattutto coprire la bottiglia, un'idea natalizia non male, anche se ovviamente non risolve un problema grandissimo, però essendo questo un periodo di regali, soprattutto l'ultimo mese del Q4, va assolutamente bene testare, ok, questa tipologia di prodotti, anche perché in Italia sicuramente ci sarà pochissima gente, pochissima competizione per questa tipologia di prodotti. Per questo video praticamente è tutto, ricordati di iscrivere sotto qui nei commenti Shopify Dropshipping, hashtag Shopify Dropshipping, per avere la possibilità di essere eletto o eletta al concorso gratuito, dove mettiamo a disposizione Montani Commerce Ebook, mio personale Montani Commerce Ebook, dove metto a disposizione la lista dei migliori siti Shopify Dropshipping e Private Label, metto la lista delle app Shopify che utilizzo personalmente, e la lista dei settaggi Shopify che utilizzo io personalmente sempre per i miei store, quindi apps, settaggi e siti da i quali prendere spunto. Tutto questo basta commentare qui sotto, hashtag Shopify Dropshipping, e ricordati di iscriverti al canale e di mettere un bel mi piace a questo video, quindi fai tutto e avrai tutto. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video.